ciao a tutti ragazzi benvenuti sul mio canale oggi ragazzi siamo qui per aprire tanti pacchetti per trovare i tos ultimate addirittura se ho contato bene hanno messo 23 giocatori toss ultimate tantissimi tantissimi questa volta vi faccio vedere un po i pacchetti faccio vedere prima di aprirli aveva giocatori oro giocatori orari piccolo due pacche da 100.000 crediti un pacchetto 55 25 giocatori 83 più 3 giocatori 85 più 5 giocatori 83 più 20 80 più 25 giocatori 84 più quindi ci abbiamo tanta roba allora questo qua lo aprirò in via parte anche 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 l'altro eccolo qua anche questo qua quindi adesso ci abbiamo tutti il resto ma tranne questi due che aprirò nei video a parte in modo da portare più contenuti ragazzi prima di continuare con i video vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale di attivare la campanella di lasciare un like ricordo che sono tutte le serie a partita del 22 su twitch ragazzi importantissimo iscrivetevi attivate la campanella per non perdere le prossime live ovviamente scaricate anche i stand gaming per giochi in digitale il ps5 xbox e molto altro poi trovate l'accesso del ps5 di amazon poi trovate il mio mio canale telegram il link paypal per se qualcuno volesse supportare con una piccola donazione poi ovviamente il contest sempre attivo per quanto riguarda le cinque copie di fa 23 che uscirà verso la fine di settembre quindi mille iscritti e poi si farà un mega contest dove voi estraggo cinque vincitori dove poi metterò io in contatto privatamente e darò la chiave appunto il codice da riscattare sullo store sulla propria console ragazzi poi non vi dimenticate di scaricare anche onefootball tutte le news sulla vostra scuola del cuore le trovate solo su onefootball primo link in descrizione allora io controllo sto registrando si sto registrando perché è meglio controllare perché poi se esce qualcosa allora partiamo partiamo con questo giocatore oro che ci dà un solo raro ok ok hazard organ ok questo qua non era niente di che questo qua rispondo di trovare qualche tos ripeto io spero di trovare qualche tos purtroppo devo fare sempre questo giochetto qui sapete quanti doppioni troveremo stasera cioè oggi con questi con questi pacchetti io dico stasera semplicemente perché sto registrando questo video che sono in live quindi proprio per questo comunque se avete pacchetti da aprire che non so premi di scott battles premi di di diamonds io comunque sia la domenica mattina che giovedì mattina sono in live quindi quindi intorno alle 10 mi trovate in live e magari se vi va li posso li posso aprire io i pacchetti sempre se vi va allora apriamo due giocatori 80 più dai due giocatori 80 più vediamo un po ok semplice lavagna comand no le marra vabbè le marra le marra 83 ma secondo me la percentuale sarà bassissima per trovare questi questi tos ultimate io se ne trovassi già uno sarei molto molto felice ci abbiamo dunque mega pacchetto raro 5 giocatori apriamoci prima questo dai pac da 50.000 crediti piccolo chissà chissà ok ancora nulla francia ancora ts ehm hernandez il fratello di teo non so se teo e tos in questi tos ultimate probabilmente sì probabilmente sì molto molto probabile molto molto probabile vabbè pochi doppioni anche questa era scambiabile questo pack ehm vediamo un po cosa c'è rimasto a parte vabbè due pacche da 100.000 ehm apriamoci questo mega pacchetto raro da 55.000 crediti nulla mi manca un workout cioè manca un workout mi fa Arthur stiamo andando con gli 83 stiamo andando purtroppo non mi fanno nemmeno un workout i pacchetto non sono male cioè i pacchetto sono ottimi secondo me però purtroppo il gioco è così purtroppo ehm marziale, marsello, ismaili oh ombra ha dato vabbè intanto è pure non scambiabile quindi leno ehm siriku leno purtroppo è da scartare vabbè non fa niente dai lo scartiamo ehm ok facciamo così usciamo e rientriamo dal negozio perché non sta uscendo niente non sta uscendo ci abbiamo questo tre giocatori rari 85 e più dai 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 fai uscire qualcosa dai walk out ma non è toss ehm cantè cantè uno cantè anche se non costa più nulla quando può costare se una volta costava 40 50 mila adesso quando può costare prima volta che lo trovo quest'anno cantè primissima volta cantì 90 oh holland purtroppo mi sembra che lo debba scartare tra l'altro quant'è che costa? quindi ha 30 mila crediti dio sterling non parliamo poi di sterling? eh lo devo scartare anche lui purtroppo vabbè poi nel caso lo riprendo ehm cosa ci rimane? vediamo vediamo un attimo cosa ci rimane ehm dunque ci rimane 5 giocatori 83 più apriamoci questo dai 5 giocatori 83 più walk out ma non arriva il maledetto tosse guardi manco il regain vabbè dai me lo potevi fare il regain dai su dai certo che i tosse non si troveranno e vi avviso che i tosse non si trovano i tosse cioè sarà molto molto difficile bisognerà vedere la percentuale sui pack da 100 mila crediti eh questo che cos'è? eh 83 più che schifo spero che non debba scartare niente più perché basta scartare dai da bel jesus ok da scartare dai ci rimancano i pack da 100 mila ma prima di aprirli voglio vedere un attimo una cosa voglio andare in negozio dovrebbe esserci pack da 100 mila promo fatemi un attimo controllare ehm ci sono i pack ultimate 27% e che sarà intorno al 20-21% sarà più o meno ci abbiamo un 20% bene 20-22% che trovare un tosse ma dipende tutto da dai signori di esports dipende due pack da 100 mila e dai dai fai uscire qualcosa dai dai fai uscire qualcosa dai mamma mia incredibile alba cioè sono andato meglio io con i pacchetti di merda ecco qua non si trova niente che schifo che schifo che schifo non me ne aspettavo tutta merda ok 84 ripeto sto trovando solo lavagne sto trovando cioè tutti 83 84 83 84 e basta allora sono tutti da scartare no ok ultimo pack da 100 mila e poi ci salutiamo perché poi questi altri qua li apro negli altri video vai dai fai usci il tuo tosse dai vi prego dai finito il gioco avessi i rubinetti madonna mia che vergogna 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 mamma mia mamma mia che vergogna che vergogna che vergogna sto gioco sono pure non scambiabili pack cioè proprio per questo tu devi far scurare la gente cioè non ho possibilità di venderlo quindi appunto dammi il tosse niente niente proprio che schifo a mese di giugno quasi metà giugno e qua ormai siamo ancora col fatto che non regalano niente che schifo che schifo che schifo non ho parole perché quant'era la percentuale di trovare walkout più o meno quant'era c'è qua il 21% là quanto poteva essere un 17 18% di trovare un 88 manco quello abbiamo trovato c'è assurdo assurdo vabbè ragazzi il primo video di questi pacchetti termina qui mi raccomando lasciate un like iscrivetevi al canale altrimenti la campanella per non perdere i prossimi contenuti date un'occhiata a tutti i link in descrizione noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao